Dovremmo essere a breve in live Come? Mi hai invitato di nuovo? Perché? Come? Sì, anche a me, mare La mia... La trasmissione è stata interrotta Scusa, ma perché? Scusami, spiegami il perché Non lo so Ma qua mi dicono, sono già in live Ragazzi No, 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 siamo dal vivo Siamo dal vivo, siamo dal vivo Ciao ragazzi, benvenuti In un nuovo live dei Pessi da casa Ragazzi, scusate, però Abbiamo... dobbiamo vedere come funziona qui Con la nuova serie, ragazzi Finalmente Serie di Call of Duty, ragazzi Con me, ovviamente Il grandissimo Pum, ovvero Aldo Bocca Ciao ragazzi Un collega qua di lavoro Scrocchia, ovvero Giovanni E Fabag, che è un caro amico di vecchia data Fabrizio Ciao ragazzi I membri Praticamente del clan Non ci sono Perché il gioco Per adesso non ce l'hanno Ma entro una settimana Così ce l'avranno E... E niente raga Io direi di partire Infatti ho detto Quando mi ha detto Si è bloccata la live Ho detto Ma come? Non siamo in live Invece se tu vai nel canale Su... Su YouTube C'è Assolutamente Se tu vuoi a vedere Fra Mi raccomando ragazzi Lasciate like E iscrivetevi Direi di partire Che dici? Com'è? Partita veloce Perfetto Partita veloce Devo fare? Allora Dovresti fare Il filtro E aspetta Cos'è? Abbandonare la lobby Devo fare? Perché qua già mi sta ricercando Ragazzi Scusate Ma non Non lo conosco Ciao Stefano Tutto a posto Dimmi Per il riscaldamento Possiamo fare Una Privata Ma scusa Qua mi sta cercando La partita Voi ci siete? No No Disconnessione A causa di loro E aspetta Che vi invito Aspetta Che vi invito Perché Questo Aspetta Vabbè No no Ti ho invitato Ti ho invitato Perché sono uscito Dalla partita Vai vai To un po' Dopo vado Non assai Va bene bro Non ti preoccupare Ragazzi C'è che voi C'è qui No ma siamo già nel party Ragazzi Non è necessario Che c'è Aspetta Fra Aspetta Perché io non lo sto capendo Ancora sto gioco Un attimo Un mare Io sono da solo Mi dice qui a me Allora ragazzi Usciamo No 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 Sono da solo Sono da solo Sono da solo Ok ragazzi Uscite dalla lobby E facciamoci invitare Di nuovo Eh vi ho invitato Ragazzi Vi ho invitato Vi invitaci Per chi che sta vedendo La live ragazzi Scusate Ma è la prima volta Che giochiamo In questo gioco Ancora ci stiamo Un po' ambientando Ciao Peppe Ciao Golden È tutto a posto Frate Tutto a posto Tutto bene Tutto bene Ci siete ragazzi Ora che Manca Manca solo Michael Manca solo Michael Frate Non mi è arrivato Come non ti è arrivato No Te lo mando di nuovo Te lo ho mandato Ora si Ok Poi cosa devo fare Scusa Ah filtro Ok filtro Devo fare Devi deselezionare Dominio Tutte le modalità Non ti interessa Non selezioni Allora ovviamente Metto Dead match a squadra esaltante Ok Perfetto E poi cosa devo fare Cerchio Partita veloce Esci e fai partita veloce Ok Sperando che Perché prima Me l'aveva trovato Una partita Ma non Non ho capito Perché Cioè C'è Però Federico Devi togliere Devi mettere i filtri Sì sì L'ho messo L'ho messo L'ho messo L'ho messo Praticamente Solo dead match a squadra Ok Ma quando rifai torneo Di Di fortuna Quando rifai Di fortuna Di torneo In duo Bro Penso prossima settimana Prima Di partire Perfetto Perfetto Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ottimo Vediamo come armi Cosa avrei Praticamente Adesso hai le armi Della mutua E non posso vederle Non posso vederle Non posso vederle Devi selezionare Le classi Alla in fondo Ah quindi Allora infatti Non posso vedere Sto vedendo Va bene Si sblocca Le modifiche Si sblocca Livello 4 Va bene Va bene Nathan Vabbè sedia Non provare Guarda che c'ho Il campione Di Tekken Oh Bella Fra Ciao Come va Bello Tutto a posto Eh si Siamo in live Ragazzi Con la nuova Con la nuova serie Di Call of Duty Io direi Di prendere questa Ragazzi Vi raccomando Lasciate la Ma siamo solo noi quattro Come siamo solo noi quattro Come me I rivali si Ma siamo solo noi quattro Senza nessuno Guarda che si spara Flashbang lanciata Sparare 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 Già a me Mi stanno massacrando Aspetta Sparare 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 Eh no bro Ragazzi Io ora È la prima partita Che faccio Come potete vedere Sono a livello 1 E quindi È scarsissimo Aspetta Eh Aspetta Guarda Vedo movimenti Aspetta Aspetta Vedo movimenti Completamente E come faccio Per vedere Ah Radar personale Nemico in volo Ragazzi Da demitembo Perché veramente Ancora sto gioco È molto Ma ti vedi Sono tu Federico live Nemici Nemici Mi sparrano Ah questo è Una partita Ti vedi Sono tu live Oppure Guardi Nemico in volo No Tutti quanti Tutti quanti Fra Ti senti le due volte Ti senti le due volte Vediamo la combattia Questa No Fredo Mi sto facendo Uno 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 Quattro Contatto Guardano Fermite lanciata Prendate Guardate 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 NEMIiGENERATI No Non mi trovo A sparare L1 e R1 Completamente Non mi trovo più Come? L2 R2 Sono abbiuto ormai Con F strumenti rider eh non capisco un cazzo veramente non capisco chi sono i nemici bombardamento di precisione in arrivo al riparo fra non ce l'ho avvito perché non facciamo uccisioni fra io non sto capendo niente mi stanno a me rapendo completamente io sto facendo non so quando ecco il primo un attimo un attimo c'è un attimo da capire il gioco bene non so perché ci devastano solamente che tempo? almeno non si senta CONTATTO! NEMICO! INGRESSO DIN CARE! NEMICO! INGRESSO DIN CARE! NEMICO! INGRESSO DIN CARE! INGRESSO DIN CARE! INGRESSO DIN CARE! UAP! NEMICO IN VOLO! DIN CARE! INGRESSO DIN CARE! NEMICOReally? INGRESSO DIN CARE! INGRESSO DIN CARE! OCCUR ancora è il dragon bro, le persone si disiscrive non posso, hai capito? bombardamento di precisione in arrivo al riparo hai capito? non sei la c'è hai capito che faccia è una la maia radar personale nemico in volo ma perché non so dove andare a proteggionamento nemico in arrivo che si gioca male fra nemico ingresso della caverna nemico in volo senza colpi senza colpi in arrivo al riparo radar personale nemico in volo poi ancora non è bene nemmeno le bombe non è quella più data i nuovi giocatori e bro lo so il problema che non c'ho mai il primo primo livello cioè capito non ho ancora le armi poi devo un attimo settarmi pure i tasti non riesco a giocare con l1 r1 si devono capire anche le armi ragazzi se vi fa piacere lasciate like e iscrivetevi nemico in volo stiamo perdendo la caverna stiamo perdendo la caverna a me non cazzo niente vengo proprio distrutto e lo so mamma devi giocarci aspetta aspetta ma un attimo solo che io devo farmi i tasti ma completamente ma non è cosa come faccio qua abbandonare lobby devo fare sì sì abbandona certo lobby abbandona sì sì ok premi start e fai schiena domanda sì ma non hai il tempo ma non hai il tempo ah certo la lobby sì ok va bene perfetto ok va bene no comunque per chi è che ovviamente mi segue dice come mai ragazzi il fatto che non giocando ma non sapendo il gioco è così mi stai cercando su internet che mi voglio vedere aspetta vabbè però mutati fra perché sennò si sente certo magari lasciagli like pure tu dai ragazzi lasciate like iscrivetevi dai che ora piano piano bello quello dove si c'hai in mare federico eh 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 dova 270 euro spennote in risarico e attendito banno ma direi questo vediamo dai a squadra fuoco autorizzato sotto tutte le minacce nemici nell'area flashbang lanciata sparano ricarico flashbang lanciata sono con te è la mia impresione già fra sparare l2 e r2 c'è in me sono con te sono con il comando qui falcon 3 0 radar personale esaurito torniamo alla base non 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 confermati vabbè perché l'avevo arato l'avevo arato l'avevo arato bene bene va bene oh che credo in là c'è qualcuno nooo nemico ufficio approfissionamento nemico mamma mia che kill non 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 l'ho nemmeno visto ma abbiamo il radar disturbato come mai? cos'è contraere? cos'è? nemici nell'area non 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 con 3-0 in arrivo no ragazzi sta partita sto giocando il bel il falcon 3-0 radar versionale andiamo alla base non è più non è più non è più non è più ma io mi metto a scuola non è più non è più scusa mamma mia ho sbagliato mamma mia questa è questa la devi veder clippale clippale ecco ecco UAV alleato online questo è bella questa ragazze ci miei radar personale nemico online palco 3-0 in arrivo con covertura radar personale nemico nemico attacco a grappolo pronto WI Falcon 3-0 radar personale indaurito torniamo alla base attacco a grappolo alleato in arrivo non c'è non c'è ma via alleato non c'è non c'è ma via non c'è non c'è eh da lontano è così vabbè nemico drone radar personale in attesa ci abbiamo in pugno concentratevi ua via alleati Il contatto! La gazzino! Ah! Qua è l'ultima! Bella così! Mamma mia! Con la coda tra le gambe! Ben fatto! Vediamo sta partita quando ho fatto! Ah! La tripla! Eccomi! 26-9! E andavo? Eh! Ti ha buttato fuori? Aspetta un attimo, aspetta un attimo! Anzi, almeno... Allora, aspetta... Allora, è una... A Michael, no! A Fabrizio devo invitare! Ok, ci siete tutti raga? Posso avviare? Sì! Aspetta, ma forse mi posso fare ora l'arma... Fra... Come no? Come no? Ma se ti vedo nel... Parti con me! Ascoltami! Ascoltami! Ti dicevo... La serie uccisioni come... Come me la consigli? Allora, io metto... Radar personale o... Radar personale! E il secondo radar! Eh no! Non lo posso fare perché lo... Come faccio a sbloccarlo? Eh... Forse... A livello 5... Forse a livello 6... Ah, ok! Sbloccabile! Sì, 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 sì! Sto leggendo! Per adesso questo lo lascio così! Allora... E... L'equipaggiamento! Vediamo! Fatemi vedere un attimo come... Voi da assalto cosa utilizzate? Cosa utilizzate come assalto, raga? Ma come arma? Io ho... Un solo M41 Io ho... L'Achilo Mangiaro Come... Come ti... Come ti trovi con l'Achilo, Fra? Io ho un mare con l'Achilo Mangiaro È una delle armi più volte del mondo Quindi... Ma è buona? Ma è questa per adesso? Un mare per adesso è la migliore Secondo me... Ma poi è Michael Adesso ci piace l'MK Scusa, e per mettergli... L'accessori come fai per mettergli l'accessori? Qua c'è armaiolo! Eeeh... Armaiolo, armaiolo E cosa c'è? Volata e ottica, vedo Cosa gli metti tu? E io li metto... Ah, ok, 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 che... Eeeh... Il silenziatore E il mini... E il mini... Sì, però aspettate... Ah no, ci sono le mitragliette! Aspetta... La mitragliette... Questa qui... Vabbè che ho giocato prima... Un attimo solo raga, eh... Ora... Partiamo... Abbiate bietà! Eeeh... Eeeh... Va bene, dai, io direi a poi... Per adesso mi tengo... Soltanto la prima... Eeeh... Come specialità cosa vi mettete invece? Anche questi si devono sbloccare o posso... Posso... Posso utilizzare... Aspetta... Subisci il danno ridotto da focus... No... Ok... Ricarichi l'occupamento nell'arco di 30 secondi? No... Inflessibile... Meglio... Riduce... Messa a punto riduce il 33% il tempo di ricarica dei potenziamenti da campo... Cosa vuol dire? Lo sapete? I potenziamenti da campo sono le specialità che... Utilizzi durante la partita... Che attivi con L2-R2... Con quello hai il 30% di velocità in più per ricarica... No... Va bene, dai... Perfetto... Granata abbiamo detto... E tattico... Perfetto... Possiamo andare... Eh raga... Ma che cos'è quella partita 26-9? Ah... Siamo andati alla bomba... Subito... Tripla kill... E andiamo... Alla grande... Sto cercando ragazzi... Ragazzi... Se la prossima la vincete... La vincete... Dono 25 euro... Va bene... Però... Ci proviamo... Ci proviamo... Ci proviamo... Ragazzi... Cerchiamo di concentrarci... Va bene... R Grid... Il R Grid.. Eccoli... All'attacco... R Grid... Avete capito... C'è una sfida in corto abbiamo... va bene? va bene eh si ok mai! temico! abbiamo preso il controllo perché c'è n'è male? tutti i pali no? è in forma dici granata partita! è in forma no? staglio a terra! meglio sono in forma nemico! ristorante! nemico! ristorante! è un altro ristorante! no! qua! qua! una? e questa questa? sono con te! ahahahah sono con te! in che senso? usa una claymore! non lo so sono solo tre! ciao francesco! ciao prof! benvenuto! ma quest'arma qui che usi tu? michael? no! fabrizio! l'hai chilo 141! ma ti trovi bene? eh sì! ma io sì! io ho delle cose sbloccate eh! rumbo sbloccato! UAB alleato ancora! sorvolo avviato! aspettate perchè non so manco dove andare! ah! scrocchia bastonate quale pigliare! ami dubito! aes, oh sta partita io non sto trovando a nessuno ragazzi credete e certo c'è una persona sola cassa munizioni disponibili mamma mia che bello trovata la persona solo mi ricordate che c'era live non ti preoccupare bro non ti preoccupare madonna sì sì sono entrati sono entrati no 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 un'altra cosa? un'altra cosa? che iniziato? un'altra cosa? un'altra cosa? ma quello personale personale quindi vuol dire che lo vedi solo tu lo vedo solo io si e poi quando faccio un'altra uccisione ancora vediamo zona spedizione granata partita no di dietro ciao matteo certo abbiamo un radar personale a disposizione richiedo ricognizione aerea l'alto 3 0 in arrivo con copertura radar personale sono con te di qua non ci possiamo andare no 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 mi hanno colpito mi hanno colpito ricarico era 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 sullo stato ma tutti ma tutti nemici nell'area da dentro bersaglio a terra abbiamo un radar personale a disposizione non aspetta fra mamma mia due con la bomba ragà non c'è l'area di pod no chiamine buonasera non ho capito scusami bravo la vedo la vedo bella onesto non è male come ecco bombandamento di precisione nemico giù bombandamento 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 metti correndo alla moto di rosa anche no ragazzi non vince la squadra che arrivava prima a 75 nemico al centro chiamare col boom bomba bomba mia bomba zugo no ma dov'è uab alleato in zona sul fuori avviato certo questo noi dobbiamo chiamare a capo aggrappolo nemico arrivare ho smirato ho smirato ho smirato ho smirato alla grande bombardamento di precisione alleato attenzione no no Non c'è andati di qua, non c'è gente che morite, avvicinati! CONTATTO! Mamma mia! Non c'è l'unico in volo! Esatto! Mamma mia! Ma sono tutte lì che stanno camperando, ragà! Non ci andiamo più, non ci andiamo più di lì perché si muore, si muore! Un minuto è rimasto! E poi dalla nostra! Femurare un pazzo, caparavo! Non vai alla modalità storia, no bro, portiamo il multiplayer! Adacco a grappolo delico! Al riparo! Sbattato! 30 secondi! Tempo stringe dai! L'ultimo! E vinciamo! Siete stati all'altezza delle aspettative! Vediamo questo uccisione! Grazie ragazzi! Piuo pure bro! Nice! Bella, bella kill! Bella kill per il signor... Boom! Aldo Bocca! Invernus! Invernus iscritto, ricambio! Certo Invernus! Fine live mi iscrivo, bro! Iscriviti! Lascia pure like se vuoi! Allora, allora, allora! Aspetta un attimo che qua c'è praticamente ora un pazzo! Allora, Mirino Reflex! Tu cosa metti? Mirino Reflex, vero? Io sì! Allora, Mirino Reflex! Tu cosa metti? Mirino Reflex, vero? Io sì! Questo è a livello 6, sbloccato! Ma quando ho fatto? Non ho visto nemmeno quando ho fatto! Non si può sapere quando ho fatto! Quando è che ho fatto questa partita? Come si fa a vederlo? Non c'ho fatto caso! Eh no! Prepe, ma hai dimenticato di aver vinto 25 euro! Ah! Attenzione! Vero! Signor Gabri! Ma... Come... Come ci chiamiamo? Ci penso io! Bella Gabri! Scroggia Top Pro! Ma dove siamo? Di nuovo lì? Dai sì! Ma tu ti ricordi Simma Fra o Simma Bro? Simma Fra! Sì! 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 Ragazzi, vi ricordo che le mappe non le conosciamo! È la migliore mappa questa! E ora avremo se è come dici tu! Almeno per me! Ora! Sì! Siamo in vantaggio! Vado! Contatto! Un pezzo di gamba tu! Un pezzo di gamba tu! Drone radar personale in attesa! Ricevuto! Falcon 3-0 in arrivo con copertura radar personale! No! Non l'ho visto! Mi ha massacrato! Massacrato! solo l'altro CONTATTO aspetta aspetta un attimo poi vediamo se c'è un trocchia mai strocchia mai andare al centro bro no no cos'è qua ah qua si usciva usciva dalla mappa raga raga non c'è andare la non c'è andare lì cammin già ti ho ti ho detto bro prossima settimana penso seguimi pure su instagram così rimani sempre aggiornato si 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 lo so lo so e c'è e c'è e c'è un lanche assurdo no ma a me sta mappa non mi fa completamente ma ti è capitato un lanche assurdo no no completamente ma nessuno di voi a me si a me si un po' eh devo dire che è molto grande questa mappa eh ma 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 veramente ragazzi non so ma 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 una arrivo con copertura radar personale ragazzi voi tutti siete tutti quanti in game vero? si si io Fede sto usando di tutte e cazzo di alcuni maledetti ok ti chiamavo Danny per cazzo? no non mi chiamavo nulla mi chiamavo nessuno nemici nell'area radar personale esaurito torniamo alla base se l'avessi saputo l'avrei risolto all'istante non lo so beh frate ti sarò allargato ti avrò allargato un po' niente di che certo graficamente ragazzi il gioco è spettacolare qua comunque è una mappa questa è una mappa di camper eh ve lo dico subito ragazzi non è una mappa non è una mappa che dovete girare ragazzi nemici nell'area nemico vicino ai bus c'è qualcuno? nemico vicino ai bus ma scrocchia tripla? scusa ma la puoi clippare? vabbè siamo persi dopo a fine partita a fine partita premi testo share quadrato poi me la mandi che io la ritaglio che edito il video ragazzi qui non dovete girare come i passi ve lo dico chiaramente qua dovete solo giocarla safe in che senso nemico vicino ai bus nemici nell'area ma un uv ma chi? ma è che? ma è che? bersaglio a terra ma è che cosa? come cosa? ma è che cosa? no ma sei imbattita ma è che? contatto nemico impalcatura no ragà ma come caccia non è morto guarda attendete siamo avanti come vuoi? come vuoi che non lo vedo? e tu ne pare un invisibile gridami nemico negozi hai perso il comando c'è raga proprio ma come potete dire se vi invece sta mappa che si cambera come i pazzi in questa mappa ladone che fecchio che scoppiava la magna ma cosa deve andare non è radar personale in attesa non è radar personale in attesa Occhio, 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 non uscire! Alcune 3-0 in arrivo, approvvigionamento nemico in arrivo Mare ti dicono non uscire! Abbiamo il controllo principale Mare qua non hai capito? Non hai capito? Non hai mappa per correre questo? Forse non hai capito Perdiamo il controllo! Wii Falcon 3-0, radar personale esaurito Andiamo alla base Non lo attacco lo nemico! Al riparo! Nemico, finire noi! Non lo attacchi al centro! Chi ha caro se ama ma è più brutto l'OF E dite che ha più bel! Chi ha mai di più curiosi! Non perdiamo altro tempo! Muoversi! No! Vediamo! 30 secondi è troppo scaduto muoversi muoversi non te lo vedo è una mappa proprio che fa cagare no 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 è una mappa che fa cagare questo è peccato questo è proprio per i cani e che bello ci è giocare così spara dalla sconfitta to parisci ma io ero contro di voi ragazzi non l'avete capito è un finito ah ok ok va bene va bene non è contro di noi si perchè sono rientrato in game e sono passato alla scuola ma che veri stiamo ammazzato per caso aspetta che ti invito non lo so può darsi può darsi a chi devo invitare? a me ok mi chiamano mai quelle che... tromboncino cos'è tromboncino raga? ma io non ho neanche la mente ok va bene va bene maestro va bene perchè? addirittura ci siamo tutti ragazzi ci siamo tutti ragazzi ok ok va bene va bene vai vai vai! no, fa bug che è Fabrizio proprio non ha caputo un gas proprio a dire che ha caputo qualcosa non ha parato allora boom, esatto qua ci siamo, non devo sbagliare uno che è uscito da 3 anni due nei canucci, due, non devo sbagliare non è che ti può sbagliare non è che ci sono, esatto va bene, sono andato tutti da chiacchiappati i battiti uè chi tu guarda colpiamo la panteria attacco in corso comunque so che in questo gioco non c'è ma tu non hai messo fai piano dell'aereo mi stanno ammazzando mi stanno ammazzando mi sembra un niente sembra ah, Rai, un niente ma ho mai giocata questa mappa ragazzi no, ma quella lì fino ad adesso quella brutta che ho giocato è quella lì rai ma ho mai giocato Sì, sì, sì. Anche io l'ho fatto. Eh, crede lì, sì, sì. L'amore piazzata! Sono con te! Certo, si deve capire... Si deve capire, sai cosa, ragazzi, se i passi, praticamente, degli avversari sono uguali di quelli degli amici. Non ho capito ancora quella differenza. Sono con te! Sono con te! Sembra una cosa! Allora, proprio! Sono con te! Possiamo fare mille aggiornamenti. Sono con te! Sta mappa è bellissima, come dire. Sono con te! Sono con te! Sta mappa è bruttissima. Sono con te! Mi sto vendendo il gioco. Sono con te! Non ho capito! Ricarico! Ma mi chiedo, c'è, via di colpi di puttana! Qual è un motivo? Come l'hai ucciso? Ma il colpo? R3 ha colpi di fucile d'un salto in testo. A colpi di... Però lo devi fare in continuazione, franzi. A primo colpo non muoio. Proprio? Ah, R3, guarda quello! Capone, la picchiare devi fare all'acqua! Guarda, io non ho trovato uno! Ragazzi, io non ho trovato uno! Non ho trovato uno! Ragazzi, mi raccomando, qua non siamo al colosseo! Quando ci siete in una stanza, è buona creanza di chiudere la porta! Nooo, ti ammata lì, a te leoniera chi! Ti ammata cacca, i fucili... Gli potrete rispondere... Che ammizzagliature sono carose! Ma chi stiamo io che hanno? UAB, alleato in volo! Non giocano, adesso non ti percora! UAB! UAB! Ma non è il banchino, non è che era il banchino! Io vi vedo nella mappa! Sembriamo delle fornive! Nooo, ragà! Dai, ma perché sono soltanto in trevia? ma tu ma mi... mi... cioè mi stai vedendo come stai giocando io, no? ma tu ma mi... mi... cioè mi stai vedendo come stai giocando io, no? controlliamo la battaglia mamma mia ricarico eh l'hai amato avete fortuna non incontrei i cecchini con quelli che ti fanno manciare l'ania eh bro, è la prima volta che ci gioco, guarda buavvia, alleato in bordo buavvia, com'è che fa? come fa, come fa, Michael? dai mi ammazzano da fondo mappa ora il nemico è in battaglia non mi puoi ammazzare, è illegale contatto! mi attaccano! ricarico! oh la la fede e che? come devo clippare sta cosa? appena finiamo il... nooooo ho fatto un'incisione di quella proprio cattiva ora il nemico è in vantaggio eh? è troppo sicuro che io nooo affatto da via nooo affatto da via che a me è confusionato ma basta cazzo se niente è difficile io te perdono qua guardi nel senso fai le prime 20 bombe bro le ho fatte 26 kill ho fatto prima sicura 26 no le ho fatte contatto guarda dov'è nooo l'ho fatte però prima ho fatto 26 radar personale 9 attacco a grappolo nemico in arrivo dai ragazzi lasciate like e iscrivetevi dai raga che ne è no? approvvigionamento nemico in arrivo approvvigionamento nemico in arrivo bi nooo le 30 bombe bro ci vuole tempo la cosa bella del show è quando conti la cosa bella L'AV alleato in volo Ragazzi ma io non mai... Nooo, ste cazzo di claymore ragazzi Ma sono dei cancri Bombardamento di precisione in arrivo Sì Nooo Nooo La luce di farla Che è? Che è? Che è? Che è? Che è? no ma no no ragazzi un attimo ora vi leggo ma c'è samsung samsung con 9 aspetta ragazzi ora vi leggo mi hanno colpito oddio mi ero addormento averi svegliato finchia da domicisti frasi nooo UAV alleato in volo nemici in zona avanti io ho planato in bo io ho planato in bo no ma che cosa c'è ma io ho i sgoccioli ricarico non ci credo peccato 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 è nostra la partita ragazzi ragazzi ma ti sopra vittorie c'è la prima non la contiamo con i tasti sbagliati no scusa 9 9 9 9 9 9 questa è una mappa più bella rispetto a quella quella è proprio un disastro allora ci sarebbe pure un'altra arma da provare che è praticamente l'M4A1 com'è l'M4A1 ragazzi? io preferisco la kill fammi vedere e Michael la usa l'M4A1 tu la usi Michael? adesso ho notato che la kill è migliore più stabilità ragazzi qua lo sapete qual è l'arma bella bella la FN SCAR 17 questo è l'assalto che fa quale è un'arma bella? quante kill sei? ah vabbè questa era quella di prima fate la battle royale se c'è no non c'è battle royale qui non c'è qua gli oghi seri ci sono ma vabbè un gioco al 4-1 veicoli e pantorioni vicino arrivo da est ma vabbè proprio ma vabbè proprio sono belle queste cose sono belle sono belle sono belle che sta vai ragazzi lasciate like e fate iscrivervi vai raga è la mappa più l'impunta del mondo non è bella? non è la mia 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 E si è che si è scurata Un'altra mano Rai spunto Ma poi c'è di vedere Maaamma Mamma mia Ma tu ne mi ha ammazzato MADONNA Sarò Ma niente Skydragon Scrochia e SKARS bro se sei nuovo iscriviti e lascia like se ti fa piacere ah eh nemico ciao bello e allora se ti fa piacere iscriviti eh mamma sta partita ci capollano io manco una kill la puoi shoppare col nostro codice creator volendo no questa qui ad esempio che ha mai quella non mi piace raga cioè almeno vediamo faccio questa partita sono con te nemici qui è salio a terra ricarico attacco a grappolo è salio a terra vedo il movimento radar personale rischieramento non c'è qualcuno no raga mamma mia ma balla tra balla troppo no no la killo usa la killo uso la killo ma la troppo tu avvi nemico online completamente attaccano ma è potente ma balla non vuoi restare vivo ah è diventato di milione radar personale pronto allo schieramento richiede con questo è diverso già 4.0 in arrivo con copertura radar personale rientriamo oh che fabrizio che c'è uno col c'è oh che fabrizio che c'è uno col c'è proprio insan i roves bui rilassi il è è di im ah sti radar personale pronto all'espieramento richiedo ricognizioni aerea ricarico jaguar 3-0 in arrivo con copertura radar personale contatto mi attaccano mamma mia che chino no no la chilo tutta un'altra cosa giovanni usa la chilo occhio fai il giro bravo nemico magazzino qui jaguar 3-0 radar personale a secco rientriamo però ho fatto la double kill mamma mia no bellissima la kill stavo salendo le scale no raga per adesso per quello che ho capito mi trovo bene con questa l'altra è forte ma imprecisa contatto vi toco io vi toco vi toco oh vi toco Mamma mia! Attacco a Draco, no, alle attacchi! Ma non ci posso credere, è diventato di centocolori e diventato! Ma che braviola! Non è morto, ragà! Cosa è vero? Non pare come quel cecchino! Chia! Eccolo! Mare, un cecchino! Non c'è un cecchino in mare, niente! Guarda, guarda! Guarda! Vabbè, scrocchia! Non si cosa! Nemico, non attacchi! Si! Ma lo so, che... un pezzo di merda ci è nascosto ragazzi è un ucciso ah beh non ci posso creare ti spawnano attaccano ricarico nemico lungo i binari nooo quando c'è il nero c'è un bar di un suo paura guarda che non riesce nemici nell'area ufficio ricarico 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 ma erano tutti quanti fantasma cosa fantasma nooo il nemico è a metà strada forza nooo devo premere l'r3 raga non c'è più la ghoul trooper si golden c'è oggi c'era 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 perchè ieri sono andato in live ho aspettato lo shop c'è nemico container di carico io ho un una manati ricarico non è un attimo dai raga no ma guarda che faccio ma quanto dicevo io con questi giochi mi sale l'acidità che malattie ma non è nevoce vengo in colpa in canna e che non vale ci d'età contatto! rombo i binari no ma è in colpa in canna e ragazzi mamma mia che tripla ragazzi attacco a grappolo attacco a grappolo ora siamo invalidati meno di un minuto soldato avanti ormai venga a fuoco passi si i loader 2 serri attacco a grappolo chiedo ricognizioni aerea ricevuto Jaguar 3-0 in arrivo con copertura radar personale che è il pompa leva petto di merda 30 secondi siamo agli scoccioli non lo so qui Jaguar 3-0 radar personale a secco rientriamo ma stiamo perdendo mamma mia sono temici nell'area ah ricarico mamma mia il grande recupero forse minchia mamma mia basta così si torna alla base è riuscito lo scioglio ero un ucciso però non lo so io per quello che è oggi l'ho lasciato oh ragazzi io 18-11 ma scrocchia venga ma anzi è buono hai ragione il te vi ahah ah si allora si ti indipi da guerra non puoi andare a fare dire per un punto eh vabbè ragazzi una bella tripla ho fatto eh raga bella tripla aspetta non c'è Fabrizio perché? ah perché ragazzi eh io non ti vedo nella frate prima di cercare un'altra lobby mi fai sistemare un attimo le classi vai 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 dopo l'una c'è lo shop ragazzi ah ok si dopo l'una si ragazzi dopo l'una si questo si no no raga a me quest'arma non mi piace completamente eeeh io direi di mettere una mitraglietta magari come mitraglietta cosa mi... P90 non è buono vero? la P90 è pazzesca no brugioni eh brugioni e vale è la migliore mitraglietta secondo me è la MP5 chiace l'MP7 fra livello 54 questa bella sarà dai l'MP5 è morta e l'MP5 è a livello 12 si sblocca fra vabbè no l'MP7 è a livello 50 quindi e scusa e poi per vedere record ah uccisioni morti ok registro serie di uccisioni eeeh ah ok qua si vedono le uccisioni e le morti io ho già rapporto 1,41 81 kill e 58 morti l'importante non essere in in negativo scrocchia nanzi cosa ahahahahahahahah comunque prima che è facciamo anche una partita due contro due o uno contro uno contro uno sarebbe bello che ne pensate ragazzi ci sta vero facciamo la privata magari facciamo un'altra una altre due partite pino vando è forte solo se fai scontri rapicinati vabbè bro l'hai visto che sono uno che non gambera tanto ragazzi io ho equipaggiato il coltello da battaglia come l'hai equipaggiato scusa come l'hai equipaggiato come l'hai equipaggiato l'ho sbloccato ah livello 22 praticamente questo qui con l'R3 lo uccidi giusto praticamente lo equipaggi come arma secondaria devi sacrificare ok ma con l'R3 lo puoi usare non lo so provo l'ho appena sbloccato per favore anche con l'L2 al posto dell'L2 proprio ti toglie e granatecce cani e granatecce cani e sbloccato tutto tipo magari l'arma principale o questo qua sull'uco tempo ma te lo ricordi su Ghost che avevi il Maniac ma comunque il gioco in sé è bello cioè è molto più bello rispetto veramente già si vede che come come livello è di un altro di un'altra categoria cioè rispetto ai vecchi Call of Duty almeno io parlo per PS4 raga sì sì di sento ma di sento pianissimo cioè è tostano che c'ha un masturacuffi ah questa è la mappa quella lì che dove ho fatto 26 no forza enemiche in zona quindi è uno spizio li vedi vicino colpa alla destra AIPers AIPers abbiamo il controllo ora siamo in contagio mamma mia mamma mia mi hanno arato 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 fa bug non devi fare l'umbrale no ho il più il nemici nell'area ma frema ma io se spingi la porta a mare si apre si l'ho visto è bella sta oh la la è esploso grazie alla mappa una manna dal cielo è stata stai partita proprio nemico magazzino ricarico chiesa degli evangelisti abbiamo un radar personale pronto a fornire ora siamo in vantaggio ricarico giaguar 3-0 radar personale a secco rientriamo bombardamento di di precisione nemico arrivato di precisione nemico che non c'è un scendio dalla penese cazzo l'ho proprio rotto da un'altra Nelico al centro Olla no me l'hanno colpato eh è già stato io non mi chiuderò tutta cosa ma tutta a casa siamo Nelico fortissimo oh ma c'è una testa ahi che soffra cazzo mi attaccano non è che una bomba a me ragazzo stiamo in vantaggio ma è nè è tutto qua tutto qua non andremo a metà dove andremo sbattando a bani non andremo a scuola non andremo a scuola nemico magazzino UAB alleato in sotto aprile il radar nooo UAB UAB io sono distratto distrazione merda mi ha detto di ciao siamo a metà strada combattete i suoi eri si volevano lo scuola mi ha detto come del terra cosa cosa è un bar guarda cosa è l'ingresso è l'ingresso Che bello è l'evolta! Attenzione! Bombardamenti! E' l'evolta! Basta! Oh! Sistemato! Qui autonome! Rientriamo per fare i rifornimenti! Non è un problema, tranquillo! Bersaglio indicato! Procedere! Qui loader 2-0, ricevuto! Attacco a grappolo in corpo! Sono con te! No! 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 Prima c'era uno di fianco a te, non l'hai visto! Ti fa tarare! Eh no! Cattonee! Eccle! Eccle! Semiglio台ice! No... Oh havinno un po' di là! Uabba, in nemico oil volo. qualcuno è il bazooka attacco aggrappola un nemico arrivare 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 ero ferito ero ferito nooo la sopra era non l'ho visto brutto no ma un po' ci si sapete no ragà porto cari mali un nemico no 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 ragazzi non ci possiamo fregare stai li ma non stabbiano tutti si poi le munizioni aumentate ma quante kill sto facendo ora vediamo ora anche i testi non ci credo non ci credo non ci credo ciao che vi devo dire raga niente obiettivo fallito mi aspettavo di meglio 21 kill casi c'è due scrocchia ca ne fa 4 21 7 ragazzi 21 7 facciamo l'ultima in pubblico 21 7 e poi da vita come? e poi da vita devi andare via? tra una mezzanetta e mare si e beh l'ultima la possiamo fare dai e dai facciamo l'ultima mamma mia frà ma ti sento pianissimo ma come mai ti sento piano ma no non ti sento sta parando solo ma vero ragazzi ma voi lo sentite? ma io lo sento proprio ci sono i lamenti ci sono ma parando solo non ti sento ma non ti sto scherzando comunque ragazzi 21 7 alla grande solo in questa mappa diventi hop eh bro perché conosco solo questa eh ragazzi è la prima volta che ci gioco quella lì la conosco perché c'era la demo per mettere dei proiettili potete ingaggiare tutti i bersagli non ti sento ma è stato un'attività non ti sento certo questa è lì è me, è me vabbè frate le migaviglie non puoi invaggiare tutti i bersagli chiacaruccia ha avuto la mia stessa idea ma il mirino per me è molto buon tanto no raga ma naturalmente la roba carusi ma che fa nei nuovi ridi? aveva nulla che era da ora ti sentiamo meglio, molto meglio avanti ora il nemico è in vantaggio radar personale pronto allo schieramento siamo in vantaggio attacco a grappolo pronto non ci credo nooo in questo gioco uso tanto nel... qui jaguar 3-0 radar personale a secco rientriamo nooo ha fatto lo studio mi sento ricarico ricarico Guardate ragazzi, ora vi leggo NEMICO! NEGOZIO DI TAPPETI! Negozio di tappeti c'è un nemico, dici Sono con te! Sono con te! Sono con te! Sono con te! Piaolo 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 Ce n'è uno lì ragazzi RICAIDO! Crostero d'assalto in campo Serve supporto aereo Altro, uno, due in posizione Sì, ecco Sì, ecco Non su da in mele mappa saan Sì, ma ho quasi Con l'elicotto lo farei quale kille è veramente facile Sì, è facile Sì, ecco Sì, ecco Ricognizione avviata! Puntamento nemico! Sì, ecco Ma io lo potevo muovere l'elicottero Buono, nemico, negozio di tappeti Ah avete capito ragà, eh? Non lo sapevo Dimmi Puoi anche modificare la classe in game La? La classe in game Addirittura Siamo a metà strada Già Combattete! Ricarico! Nemici nell'area Stai facendo una serie da dieci Peccato Ah? Stai facendo una serie da dieci E mi ammazzano Scacciavano il tasto tu, maio Attatto! Sono contento Ricarico! Flashbang lanciata! Spaccato! Maio Noi Mi dispari Ricarico! Non voglio noi contatto radar personale pronto allo schieramento chiedo ricognizioni aerea e vabbè raga ma per te non è morto rientriamo ma perché non è morto non ho capito sta cosa contatto mi attaccano bersaglio indicato procedere qui loader 2-0 ricevuto attacco a grappolo in corso ma anche io nemici radar personale pronto allo schieramento ricevuto jaguar 3-0 in arrivo con governura radar personale di sopra di sopra mi venne con un muro e la morte di sopra staramma e con i prezzi di sopra non è potuto sparare mi sparano nooo nemico negozio di tappeti un negozio dei tappeti che non c'è nessun negozio non c'è nessun negozio di tappeti fremmendo vici di sopra un boppo covarde nemico edificio distrutto approvvigionamento nemico in arrivo buavvi nemico online buavvi nemico online abbiamo contro ma anche se non lo distrutto guarda oh ma che è ma che spancho è scemo ragazzi 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 radar personale pronto allo schieramento meno di un minuto ragazzi 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 sono in arrivo con copertura radar personale ok sinistro ok ok non è mondo raga la realtà delle kill le hai fatte tu ragazzi appena prendo qua la mano qui jaguar 30 raga personale a secco rientriamo rientriamo vittoria imminente e si vince perché 72-64 ah tembolini l'ha raggiunto si si ragazzi e se volessimo faremo questa privata il minuto è giusto vivendo Sì, 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 va bene. Vai, vai, vai. Vai, Fabio! Beh, c'è questa privata! Eh, questo devo fare, abbandono lobby? Sì, penso di lui. Ok. Vediamo, eh... Partita privata. Ah, vedi, ok, infatti cambia poi. No, volevo vedere un attimo il registro battaglia. 1,65, ragazzi. Ma cos'è la quota, la quota di scommesso? No, no, rapporto uccisione-morti, ho 124 kill e morti 75. Alla grande, ah. Cioè, tanto, già siamo iniziati alla grande. Allora, visore notturno. Questa bella sarebbe, raga. Questa bella. Come faccio? Partita privata? Eh, sì, penso di sì. Ma aspetta, ma siamo in due. Non c'è ne... Ne Michael? Ma io ci sono. No, non sei nella lobby con noi. Allora, però, Michael è offline, mi dice, non lo posso invitare. Venendo qua sono con te. Per, se tu vedi... Nel tuo personaggio che cammina e sono con te. Eh, ma nel party mi dice che siamo in due, fra. Frate, ma io sono online. Ah, aspetta, è Fabrizio che... che non c'è. Oh, non mi fai impazzire. Eh sì, frate, la stanchezza che ti devo fare. No, 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 ok. Perfetto, allora devo fare partita privata, giusto? Sì, seleziona... Eh, partita personalizzata, ok. Allora, impostazioni di gioco. Che mappa... usiamo? Quella che piace di questa. No, fai, non le conosco. Quella dell'Isis mi è piaciuta. Eh sì, ma come si chiama però? Senti, gli metto questa qui, una a casa, dai. La prima gli metto. Ania Palace. Dai. Come giochiamo, match a squadra o tutti contro tutti? Oh, tutti contro tutti e secondo me è... Tutti contro tutti. È il migliore, sì. Tutti contro tutti, tutti contro tutti. Però ci dobbiamo fare le armi. Eh, penso di sì, regole del gioco. Allora, aspetta... Forse, scricchia, nuova, nuova richiesta dell'inizio. Il limite di punteggio 30, li mettiamo. Ok. Numero di vite senza vite massimo, rigenerazione, scatto attivo. Il radar sembra attivo o no, giusto? Ho disattivato. Ok, va bene. Ehm, penso che ho fatto tutto. Ehm... Come funziona per fare la... L'arma? Come faccio a fare l'arma, raga? Come faccio a fare l'arma, raga? Ehm... Come faccio a fare l'arma? Ognuno forse... Ah, già sono... Ehm... pronti? No, 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 no. Non è pronto niente. Ma quelli che usiamo... Ah no, no, no. Non è pronto niente, fra. Vabbè, ognuno... Credimi che non è pronto niente. Ma ognuno si deve fare... Sì, qui ti fai le go, esatto. Ognuno si deve fare la soglassa, giusto? Sì, sì. Freno di bocca, al solito! Freno di bocca, al solito! Sì, sì. Allora, una l'ho fatta io. quando ne facciamo due quando ne state facendo voi ragazzi io ho una io ho una e voglio provare la K47 l'MP7 voglio provare la provi tu l'MP7 Mike certo mi stavo facendo la classe passata freno l'inbox non so 's non so non s'è oh oh Perfetto. Arma secondaria. Vediamo questa cosa, però. Ah, c'è anche specialista, fra. C'è pure specialista. Ah, c'è pure specialista. Ah, c'è pure specialista. Ah, c'è pure specialista. Raga, quando ve ne siete fatte, ne facciamo due, va bene? Lo faccio lui. Aspetta che... Ho quasi persino. Ok, perfetto. Oh, c'è la K47. Oh, dè. Io invece provo l'MPC. Ok, proviamo. Ok, proviamo. Grazie a tutti. Questo, direi. Io sono a posto, raga. Possiamo andare per me? Ok, anche per me. No, aspetta. Ok, qua. Perfetto, ci sono. Posso avviare, ragazzi? Ditemi vai. Buonanotte. Ok, ciao Kevin. Buonanotte a te. Grazie per essere venuto. Ciao, bello. Aspetta, guarda. Penso che le regole. Limite, punteccio, 30. Salta in vita. Ok. Numero 10 è in salita. Possiamo fare anche modalità veterano, raga. Volendo. Ma però no, proviamo da quello normale, dai. Ah, prima quella normale, poi... Ma c'è un colpo in canna? Non lo so, possibil... Sì, sicuramente sì. C'è anche la modalità quella 2 contro 2, fra che è bella. Un colpo in canna con la 357 mani. Ma... Apriamo tu. Eh, stiamo aspettando a Maiko, quando te li sta fanno, dici mia. Fattene 2-3, frate. No, non stavo finendo 2... Mi ero un po' indrippato, sai. Eh, frate, dai. Le provi poi la prossima volta. Te ne sei fatte 2 veloci. Come Maiko non lo senti? Perché? E' la voglio vedere. Scusa, guarda dal party. Giovanni. Ah, non lo so. Vabbè, io sono pronto. Vado. A mia partita. Vado. L'ammazzo. Che tonno. Che tonno. Che tonno. Dome, Mare. Mi manca la mappa, Dome. Eh, quella, frate mio. E' bellissima. Guarda la fine, c'è un colpo in canna, Fer. Penso di sì, certo. Voglio pure... Vediamo sto SCAR. Che arma state provando voi, raga? Io ho SCAR e l'MP7. AK-47. Ma le voglio fare. Tutti contro tutti. Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. Ah, è senza male. Ma l'ultimo si può finire. Cruce. E' spavendoso lo SCAR. M-m-mene. Non capiste niente. I pugniacacchia... Ma chi è? Magari ha pugniac... Si può appoggiare la... Stai capendo, da qua. Ahahahah! Penso di merda! Ah! Bravo, bravo! Io te li ha scrochi, sto scrochiando! Però ci non hanno gamberati, vero? Eh, ogni tanto... C'è l'attimo che io mi fermo, penso... Etta lì! Etta lì! Frate, non le conosco, fra! Ma è una mappa nuova! No, no, mai! Questa qua mai l'abbiamo incontrata online! No, lo scara è pazzesco! Hai messo il veterano? No, no! No, no! E poi l'unico... No, vai! No, non è, non è veterano! Non lo vedete in... È in basso a destra che ci sono le cose! Vi dice le munizioni e tutto, ragazzi! Ma è troppo grande, eh! Eh, vabbè, carui! Non lo sai chi fa di staccato! Un'ora che ve l'ha vendita per questa mappa! Che io cosa ti hai detto? Padre vostro, questo è il mio cielo Ma invece ero io in la chiesa Andurra, ma Andurra te va, non vuoi sparare Vado, questo, no, ma chi era, chi era? Scroo, era il giovane, ma tu breia, che chiedo, sa dire le due parole, dai ricchi E ora un iagli Cosa è un grande gambo del bastardo, ma... Ma in un gambo di... 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 di capofiore, migliore Stanno cambiando come poco, vero? Stanno... Stanno... Ma dove si deve uscire? Ma è curioso questa mappa Non ci credo, non sto trovando nessuno ... Sì. No, caro, sei assurdo. Io non vi trovo. Soppo runne, veramente, è stamattina. Vabbè, ma eh, male a fortuna. Eh, male a fortuna. E anche a bravù. Ma io non capisco, ma io non capisco come è trasile. Radar personale pronto allo schieramento. Richiedo ricognizioni aerea. Ricevuto. Jaguar 3-0 in arrivo con copertura radar personale. Sì. 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 E' un po' di punte! Ah, mai quello su questo! Samaruzzo, posso piastere magari a me? Perchè... E' un po' di joystick nella faccia! Ah! A mille iscritti, bro! Ah, che ci sono a mille iscritti! Però c'è chi si... Si disiscrive, si iscrive! Allora, una disiscrizione! C'è, mi pare, gli due in campi runi clamoroso! Ma clamoroso vero! Clamoroso vero, eh, fra! C'è, così, oi! Arrovescio completamente! C'è, dove voglio che arrovescio? E' babbitte che vanno sempre nella chiesa! No, eh, non è in quella chiesa, no! Ma hanno cambiato posto! C'è, io hai furiato tutta la mappa e non vi trovo, carusi! Tutta la della gira! Ma senti, Federico e Michael, perché ne mettiamo d'accordo? Sommare, non acchiappamolo ma, fai, giusto, cerchiamo sulla scorta! Eheheheh! 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 ingeratore Eheh! Eheheheh! Eheheheh... vabbè, chi mi riesca a Kathy? cominciato con Guggetti che sta tenendo un tema Che certo sicuro? No vabbè ma lasciando perdere tu che si ingamberoni ma la ho giù nessuno Cioè non capisco Io giro sempre Ma non può essere che tu giri E' impossibile E' impossibile che io mi hai furiato tutta la mappa No ho sentito e abbandonato come le ha avuto aspettate un attimo che tolgo ancora sì certo che fanno la differenza certo che fanno la di certo ma non c'è no io sento tutto senta un mare magari la punta esatto credetemi non sa più care ma voi ci sapete che non sa più è primo e non sa più care ma poi mai con l'fp ci scompare non lo so male perché io sono fra di voi sono l'unico che giro credo no mare ma sto girando se voglio credere ma te voglio credere lo sai ma aspetta come come un dolce pedo e mare ti faccio vedere chi è che fai? mi monto i tre piedi mi filmo non male non faccio vedere questo lì ora gioco un po' più feticcio mai col scombario fabbizio magari non si sa non pervenuti ora mi armo di cugillo di precisione eh no frate perché se non c'è il caverna non veniamo più che dobbiamo mettere in mare il radar però noi i radar comunque sempre atti lì avvicinato guarda lui che il radar vuoi mettere scusa nomba non ti credo radar personale nemico online non è giusto No, devo sentire, di su e su, però di su e su, è bene... Comunque l'MP7 è illegale. Perchè? Perchè? Radar personale, pronto allo schieramento! Richiedo ricognizioni aerea! Ricevuto! Jaguar 3L, arrivo con copertura radar personale! Spiega! Maddonna mia! Vedo un gamberone, è maledetto! Qui Jaguar 3L, radar personale a secco, rientriamo! Granata partita! Granata partita! Ah! 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 Ok, è vero! Non faccio un uccidio! Stato! Non hai finito più tutta partita! Non l'ho scelta, caro! Non hai finito più tutta partita! Tranquillo, non l'ha fatto inserciario! Più! Come ti vieni a cercare io? Così è semplice... No! Mai ti hai visto fuori! No! No! Come ti vieni a cercare io? Oh my god Quanto stiamo? A 7 stai Sì ma magari facciamo solo questa perché dura l'infinito Durando tanto Cioè facciamo questa e basta dai Chi vince vince Sono il più scasso del mondo Sì 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 tu convesso un poco ahahahah ahahahah non è che ti faccio fa un piccio scumbario che c'è ma un fottist eh 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 c'è bene a bu non pare mi sedia nooo non vedo niente nooo radar personale pronto allo schieramento richiedo ricognizioni aerea ricevuto giaco al 3-0 in arrivo con copertura radar personale ma come potete fare a mettermi da K a K a K a K a K a K a K a K a K a K a K a K a K a K a K e' distrutto io mare con le bombe quest'anno sono forte eheh che bubbi che bubbi che bubbi eheh eheh che bubbi eheh eheh ma come venire certo se se vuoi che bubbi eheh non ci credo che bubbi eheh eheh che bubbi eheh 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 bene, bene ma quando si arriva? 30 30 venite, venite qua venite qua venite qua aspetta ma la mappa è perché è troppo grande la mappa ma Londra che è un modo piccolo il posto di ritrovo ce l'abbiamo nooo nooo ero ero ferito ero ferito mi ammazzò questi picchi ero ferito ero ferito ero ferito ero ferito stavo dicendo che stai a fare i campi di un cazzo schifosi e non lo so fra non te lo so dire non lo so non lo so non lo so va bene Sì, sì, sì. Kill Mi attaccano! Una va e due venti Una va e due venti Il segno indicato! Procedere! We loader 2-0, ricevono il giro di colpo In un'altra parte Andiamo a metterlo a cercare la chiesa Andiamo a metterlo a cercare la chiesa Un'altra parte Però magari la chiesa Parino production Lo sai comunque ora a fine partita vi dico una cosa Che avete sbagliato Che cosa? Almeno Michael e Giovanni ha sbagliato Mi attaccano! No, vai, mingia, ma andava facile Buttano nella miseria e sparo prima io Ah va, vai Attacco a grappolo pronto Perché ti ho sentito E soprattutto ti vedo e ti dico poi il perché Hai sbagliato a metterlo Sia tu che Michael E' un errore Ma cosa è l'altro? Certo Non serva un cazzo Ma hai l'altro? Non capito Ma l'ho capito Io vi vedo Quando vuoi Mi sparano! Strucchi c'è da Strucchi c'è da E' un'acqua Scusa ma se io lo premo Lo devi spammare Lo devi spammare Lo devi spammare Nel senso che lo premi una volta sola e basta Che lo devi spammare Tante volte consecutive Hai capito? Ho capito Ho capito tutto Ho capito Io contro uno Un mare avvicinato Un mare perdo Il segno indicato Procedere Ricordo ricognizione aerea Ricevuto Jaguar 3-0 in arrivo Con copertura radar personale Con tutte queste boomer Non si senti nei passi Gioannuzzo Gioannuzzo Attacco a grappolo nemico in arrivo Ho giusto l'attacco Ma scrocchia si ammazzavo solo Radar personale a tecno E' un po' Dio che su scassone Si ammazzavo solo Ahahahah 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 Certo che mi ammazzi Certo che mi ammazzi Ho la mitraglietta E' normale Radar personale nemico Quando sto 24 13 8 8 Da fa... Michael Ti sei fatto recuperare Da fa' bug Ho fatto una cosa meravigliosa Ho fatto una cosa meravigliosa Ho fatto una cosa meravigliosa Ne quale chiesa sei? Ne quale monastero sei? Ne quale monastero sei? Gioann? Ahahahah Aspetta un attimo Che sei allora Visto si accorre bene Aspetta un attimo Che caso Ah Prontosi Prontosi Che Mi... 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 Vabbè Vabbè Ah, legge, parà bon Porca miseria, ti piglia stu bomba? Ehi, chi scato è? Caruso, ti piglia un bomba su stu scato... I sci... Ehi, che Federico sta dicendo? E' Francesco, ca... L'avete presa in sceni di Assassin's Creed che si ammazzavano chiesa a chiesa? Caruso, peggio che tu fa ora! E' un po' sana, non c'è tutto, se non è un po' come te... NOOOOOO Ci sta... Stai venendo... Stai venendo, aspetta ora a mare vengo a prendere anche a scrocchia a mare voglio superare mi sparano certo il pompa la battaglia è nostra radar personale pronto allo schieramento richiedo ricognizione aerea ricevuto jaguar 3-0 in arrivo con copertura radar personale ma scusa ma camminate veramente che cose Fabrizio che lanciarazzi state camminando ma anzite una vergogna caruzzi qui jaguar 3-0 radar personale a secco rientriamo e male mi capita in un istante ma chi vuoi no tu l'avevi come amma principale che mi stavi sparando col chido no ma perché avevo visto uno da lontano si va bene va bene ok e male tu te tu te che lo faccia fare e male il cambio arma mamma non perdo tempo poi scrocchia l'ultima kill scrocchia radar personale nemico online scrocchia l'ultima kill pronto si oh ma siete pazze caruzzi porco giuda non stai capendo niente non dimmi il sparo perciò non stai super mi ha fatto fare assorare come un gonnudo Chi è ramu? Puoi ramu,ciardo? Ha ammuchadito, ha ammuchadito Ma qua è? granata partita l'ultimo kill è Kv, ma capisci? tagliate i carussi chi ha fabba fabba che arriva adesso per una kill volete fare l'ultima ragazzi o chiudiamo la live? va bene, aspetta che saluto ragazzi ci siamo divertiti tantissimo volevo sapere se anche scrocchia visto che prossimamente organizzeremo infatti voglio anche l'occasione a dirlo che lui ha iniziato da poco a stremmare ragazzi assolutamente vuole anche intraprendere un piccolo percorso insieme a noi ciao bro mi ha condiviso la live ciao alessio ciao 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 iscriviti iscriviti e lascia like che mi iscrivo appena finisce la live anzi guarda mi iscrivo adesso ok? ti è arrivata eri 5 ora sei 6 ragazzi che dirvi è stata una bellissima live niente scrocchia ti sei divertito come è stata bella si si ci siamo divertiti ci siamo divertiti ci siamo divertiti spero anche 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 si siano divertiti è stata una bella sfida tra di voi fino all'ultimo sempre per una kill sempre la siamo eh spero che mi siete divertiti no ma non è questione tra di me abbiamo un po' sbagliato arte no comunque ti sei divertiti mi siete divertiti questo a me è interessato si ma più che altro mi sono divertito online a giocare nei deathmatch a squadre cioè nella privata mi sono un po' annoiato anche perchè non la conoscevamo si vabbè certo la la mappera si 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 assolutamente possiamo organizzare con altre persone assolutamente non lo so se si può fare solo i 4 anche deathmatch si no no ora ci sarà si 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 ora tu conti che ci sarà poi che avrà il gioco salvo salvo king ce l'avrà claudio ce l'avrà pure vinco ci divertiamo ci divertiamo ragazzi che dire la live è giunta al termine grazie ancora per chi ha lasciato like grazie per chi come sempre ci supporta economicamente ci supporta con le visual ci supporta con i like grazie di cuore che dirvi raga la live è giunta al termine prc vi saluta vi do appuntamento prossima settimana con una nuova live ovviamente come già vi avevo detto prossima settimana domenica partirò quindi per una decina di giorni youtube sarà offline ci sarà soltanto salvo love con twitch che esprimerà quindi raga poi vediamo di organizzare magari prima che parto un torneo di fortnite va bene raga vi saluto buona serata ciao belli ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.